Un'antanatomia nel pensiero di Marx nel libro del filosofo Gian Cristiano Desiderio in cui tenta di confutare il marxismo per mettere in risalto le falle del pensiero del filosofo tedesco. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo. Bisogna prendere atto che non c'è differenza tra il marxismo e Karl Marx perché Marx fu il primo dei marxisti e con la sua opera costruì un grande armamentario propagandistico per la realizzazione del comunismo, credendo di averlo trasformato da ideale utopico a realtà storica e addirittura scientifica. È la confutazione decisa che il filosofo Gian Cristiano Desiderio riserva a Karl Marx con l'antimarx Anatomia di un fallimento annunciato, pubblicato da Rubettino. Non rimane che l'economia per realizzare il materialismo storico appunto nella storia che dovrebbe essere una sorta di pacificazione dell'umanità con se stessa. Il marxismo e il comunismo sono stati smentiti ripetutamente dalla loro stessa materia. L'economia è la storia. Il marxismo ha predetto l'impoverimento dei lavoratori e la storia si è incaricata di smentirlo. Il comunismo ha profetizzato la rivoluzione in Occidente e la cronaca ci ha mostrato la bugia. Hanno esattamente capovolto quello che è il metodo invece scientifico che non cambia le carte in tavola per conservare una falsa teoria. I marxisti hanno sempre spiegato i fallimenti. Budapest 1956, Praga 1968, Berlino 1989 cambiando i fatti per salvare la teoria falsa. Questa mentalità antiscientifica è così radicata in Italia che nonostante non ci si sia ancora liberati del vecchio già si parla di un nuovo comunismo. Gramsci aveva delle idee diverse rispetto a Marx. Marx viene per certi versi innovato da Gramsci sul piano del pensiero. Ecco perché è necessario un anti-Marx. Infatti in Italia il marxismo non è stato criticato ma solo rimosso e le rimozioni, non superando il trauma, continuano a generare disagi.